cessazione che cos'è il nirvana commento nirvana è un termine sanscrito che significa cessazione nel buddismo rappresenta lo scopo finale dell'evoluzione nirvana non è un luogo fisico ma la condizione della coscienza uscita definitivamente dal ciclo delle rinascite il raggiungimento non consiste nell'estinzione dell'io ma dell'illusione che come dicono i maestri immateriali l'io esista veramente